mamma mia ragazzi sono emozionantissimo ho appena ricevuto la prima copia del libro di Hermes Palinsesto Il visone ha una faccia enorme è una raccolta di poesie incredibili io vorrei tantissimo leggervene qualcuna però sinceramente non so se sarò all'altezza ci provo ecco andiamo un po' sfoglio un po' ah beh ma qui si può anche aprire a caso ecco per esempio il cielo quante volte ho guardato il cielo con questa fanno 8.518 pantaloni ciappa merda oh giovani donne gli stilisti vi hanno ingannato credete che i pantaloni a vita super bassa quelli con le tasche dietro le ginocchia i ciappa merda insomma vi rendano assai ficche sappiate invece la cruda verità vi fanno un culo orrendo e Hermes sa essere anche molto molto pungente questo è molto breve proverbio indiano non mettere i carri davanti ai vuoi ecco se devo dire una cosa mi sento un po' a disagio perché credo di non avere la voce giusta per leggerle così di Hermes Palisesto ci vorrebbe una voce di quelle basse importanti tonanti anche lasciatemi concentrare un secondo ecco 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 così dovrebbe andare bene meglio comunque attrazione fatale darlo tu ti innamori sempre e solo di fighe di legno e poi questa caratteracci in Arabia Saudita se dici una cosa sbagliata si scatena l'Arabia Saudita ricaricato il paziente soffriva di una diarrea così potente che gli fece una trasfusione di cacca e poi questa brevissima ma così significativa vento del deserto il sultano del Qatar alla bronchite